a una cosa a fine video mi raccomando scrivetemi sui social per avere il save perché essendo l'ultima puntata potreste avere questo save così potete magari divertirvi ciao a tutti su football major 2020 e siamo pronti a proseguire con questa ultima puntata la nostra avventura al torino e voi mi direte ma cavolo ma ti manco troppe partite allora si l'ho spiegato nello scorso video in questo filotto di partite vedremo semplicemente tre perché il mio obiettivo è finire in quest'ultima puntata la carriera per poi iniziarne un'altra ho già preparato tutto quanto sto sistemando le ultime cose e presto cominceremo la nuova carriera su football major 2020 quindi mi raccomando seguite il canale in quest'ultimo episodio vedremo le partite contro cittadella sampdoria e brescia voi mi dite ma perché non vediamo l'inter perché non vediamo a lazio la juve sì però noi siamo comunque in posizione medio bassa in classifica quindi cerco di vedere le partite più importanti per noi ok perché contro lazio inter juventus o napoli all'ottanta per cento è sconfitta proprio rispetto all'ultimo episodio ho giocato offline quella contro off screen più che altro quella contro il bologna e vedete il becio risultato una partita strana dove noi abbiamo giocato male male loro hanno giocato meglio di noi sicuramente e due assist da parte di di luperto che giocava al bologna ok già questo serve un po a capire però insomma una sconfitta che non chi non ci stava cioè o meglio che non si è venuta a succedere ecco soprattutto perché venivamo da quattro partite che eravamo imbattuti quindi adesso per questo episodio ci apprezziamo della prima partita contro il cittadella quindi ecco la formazione formazione ormai basic per noi quindi sirigu, gnagnon, mette, lustondo, terave, zanellato, sturaro, verengher, verdi, belotti e vinicius ora vediamo quella dei veneti ancora 4-2-3-1 per mister rossi ci sembra che sul football manager esiste soltanto questo modulo lo utilizzano probabilmente tutti qui comunque gendarai in porta gringhelli adorni varotto del pretto in difesa durso branca a centro campo marin schiappacasse ex parma tiago guveia ok e strelec in attacco quindi questa partita è assolutamente da vincere dobbiamo vincerla loro sono diciassettesimi, noi tredicesimi marin per schiappacasse palla di poco fuori e non iniziamo proprio nel miglior dei modi branca per durso durso allarga per ghiringhelli marin madonna mia stiamo perdendo con i diciassettesimi vabbè ok oh signore mio signore mio ci siamo veramente una squadra che a parte che c'è veramente giocatori improponibili cioè nel senso perché tranne questi qui ma già il fatto che abbia dovuto mettere metè difensore centrale mamma mia mamma mia l'ustondo mamma mia l'ustondo madonna mia c'è i terzini che sono imbarazzanti l'unica parte buone sono i due centrocampisti ma per l'amor di dio le riserve bravo belotti bel gioco per verdi riprova il tiro ma ce ne andrei beh potrebbe tentare qualcosa di meglio e niente allora io vado in aggressivo perché è inconcepibile aggressivo mancanza di guida sottoporta e andiamo così io vado un attimo in tattiche vado anche in offensiva passa velocemente e io vado con rifesa molto più alta perché non possiamo andare avanti così contro i diciassettesimi punizione per noi batte verdi gol su baggato attraversa e ci mancava solo questo va bene gringhelli per schiappacasse schiappacasse per branca branca per guveia guveia si accentra teraves prova a incontrastarlo ma non ci riesce branca ancora guveia per depretto branca indietro un po' di pressing no cioè guarda lì fermi fermi della serie giochiamo a torello cioè fermi mamma quanto sono fermi si scatta al terzino nel momento peggiore mamma mia poi ci manca Giandrei che prende sette vabbè verdi dal calcio d'angolo in mezzo per Vinicius e seconda traversa di oggi verdi gol su baggato palo ancora e allora di allora ditelo sono tre pali ok Ghiringhelli per Durso Durso per Marin ancora per Durso e mezzo bella palata di Siriu questa è stata bella io vado in molto offensiva e vediamo cioè guardate qui la difesa loro sette sette e mezzo Ghiringhelli non hanno cioè Varotto lo conoscono solo a Cittadella lo conoscono Varotto vabbè meno meno male meno male che che questo save ora finisce perché veramente mi ha stancato alla grande meno male meno male che veniamo a partire Napoli-Perugia e poi vediamo un po' la classifica per poi vederci ok per la partita contro Sampdoria quindi ne salteremo un po' e questa qui è la classifica finale per la trentesima giornata noi siamo tredicesimi a trentatré punti sempre libero male però ragazzi abbiamo fatto uscire dalla zona di recessione in Cittadella una partita noi che abbiamo preso tre pali cioè vabbè è anche utile commentare comunque adesso andremo avanti saltiamo le partite se non erro contro la Lazio l'Inter e la Juve se non erro e ci vediamo direttamente per la partita contro i blucerchiati e come prevedevo i risultati sono stati discretamente imbarazzanti perché allora contro la Lazio perdiamo 0 a 2 una prestazione dove ci hanno abbastanza appallonate e dove Siric ha preso anche un bel 7 a 1 quindi poteva finire con un passivo migliore per loro intendo poi contro l'Inter sorpresona gol di Braimi al 92 era in vantaggio con Belotti poi Brozovic negli ultimi minuti e poi Braimi il tempo di recupero e vinciamo la partita a sorpresa contro la Juve mazzate nere perché tipo l'hanno fatto 20 tiri totali noi soltanto 5 insomma vediamo un po' che anche se non è un Juventus dei vecchietti perché Ronaldo e Upameyang però insomma ci hanno asfaltato nel derby una Juventus in crisi che però ci ha abbastanza come ho detto prima messo sotto adesso vedremo la partita contro la Sampdoria e questa qui sarà la formazione che scendere in campo Siric Nagnon Mete e Rustondo Terapè Zanellato Suaro Michelotti perché Berenghele è squalificato Verdi Belotti e Brachimi perché mi sta convincendo di più ora che Vinicius quindi ora vediamo la formazione avversaria ah sto 4-2-3-1 Marotto di Maroni allora De Man in porta Ferrari Armini Calabresi Erchiaga in difesa Benassi Linette centrocampo Bebù Maroni e Iunes dietro Asensio io veramente questo uso e abuso del 4-2-3-1 sarà Beris punizione con subbaggato con subbaggato traversa subbaggato è una cosa allucinante quant'è che abbiamo preso anche in l'ultima parte che abbiamo visto due traverse ed un palo santo cielo santo cielo una cosa senza senso Ferrari per Linetti Linetti per Benassi Benassi per Iunes Iunes per Erchiaga Erchiaga sul sinistra per Ferrari Ferrari in mezzo per Maroni ma eh sì vabbè Rimpalli a destra manca mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia questo insegna di allenare sempre tu le squadre perché troppo troppo ti capita di subentrare in corso a un a un altro allenatore tra virgolette quindi all'IA è devastante quindi veramente possibilmente che ne so trovate altre soluzioni però allenate sempre le vostre squadre che almeno ecco o magari non capitate mai a metà stagione questo è il mio consiglio perché veramente l'IA fa un mercato pessimo comunque anche noi ci hanno messo sotto abbiamo preso un palo però niente veramente niente di più loro invece gol di Maroni su un rimpall tiro rimpallato su Meite e poi sui piedi di Maroni e vabbè qui non assolutamente non dove è la passione cioè buah gioco da schifo Bremi per Sturaro larga per Michelotti 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 per Verdi ancora Michelotti Telavest palla fuori bene e Lustondo dietro per Sirigu larga per Michelotti Michelotti bel lancio per Belotti poi di destro va bene ancora in pallone in pallone per noi questa volta e gol del Gallo Belotti bella azione bella azione poi Michelotti che fa un cambio campo di destro vabbè anche qui sembra che abbia fatto una finta in realtà un dribbling in realtà è stato un tiro rimpallatissimo e oh chi rimpallo felice di rimpallo felice facciamo qualche sostituzione togliamo Telavest e mettiamo Herrera e poi togliamo Brehimi e mettiamo Vinicius e andiamo così ultima sostituzione togliamo Zellato e mettiamo Makovsky e qui va bene abbastanza noi perché loro hanno comunque giocato meglio tirato di più ma portiamo a casa un pareggio però c'è i 6-6 fioccano e quindi niente non sono contento assolutamente e guardiamo qui siamo quattordicesimi raggiunti dal Sassuolo e queste partite cominciano a diventare importanti queste quattro partite perché non siamo più tanto lontani e quindi dobbiamo fare veramente attenzione l'ultima che ci vedremo contro il Brescia del bisogno intendo è forse la più importante stesso trend dell'ultima parte diciamo che abbiamo visto con le partite giocate off screen una sconfitta una vittoria e un'altra sconfitta allora la prima contro il Perugia clamorosa clamorosa perché loro hanno fatto la partita della vita e noi abbiamo perso contro la ventesima e questo fa capire insomma quanto quanto è assurdo cioè nel senso un Perugia che è morto va a fare malapartire della vita ma veramente raga votoni cioè il Perugia ha preso veramente bei voti noi in luna della sorte nella stessa giornata che noi perdiamo contro il Perugia il Perugia retrocede per connessione di risultati quindi abbiamo concesso una vittoria a una retrocessa poi contro l'Empoli qui invece abbiamo vinto noi tra zero e abbiamo veramente fatto una bella partita noi guardate Sirigu Gnagnon Belotti Herrera quindi una bella 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 partita vinciamo da zero con un Empoli che era avanti noi in classifica e in questa partita ci guadagniamo diciamo la permanenza in Serie A quella dopo contro il Napoli in signa il novantesimo però loro hanno giocato molto meglio hanno giocato tipo tre volte tre volte noi più o meno in signa e segna il novantesimo e niente quindi ora noi affronteremo l'ultima partita della stagione contro il Brescia da salvi ultima partita della stagione e ultima partita anche della carriera quindi apprestiamoci a vedere con le reclimucce in saccoccia quest'ultima partita contro le rondinelle e vediamo la formazione che scenda in campo per noi gli unici saranno Sirigu Gnagnon Meteor Stondo Terave Zanellato Makovsky Berengher Verdi Belotti e Ibrahimi perché non sto raro perché sto raro mi si è rotto per dai due ai quattro mesi quindi niente devo mettere in forza Makovsky ora ci manca soltanto prima di iniziare la partita di vedere la formazione del Brescia 4-3 1 4-3 3 4-2 1 3 vabbè insomma formazione particolare quella di Breda con Secheira in porta Patrick Papettic Cistana Amavi in difesa Luan Diviani Bisoli Rabbi Agustin e Borrelli in attacco che poi d'altro un qualcosa che vi fa capire quanto il mercato di football manager è veramente insurso nella partita contro l'Empoli contro avevamo Shoboshlai cioè Shoboshlai era andato al City e in prestito all'Empoli voi ditemi quante speranze può avere un ragazzo come Shoboshlai che a parte che vada al City va bene ci può anche stare ma che venga in prestito all'Empoli una squadra che ancora un po' mi retrocede vabbè questo è il mercato di FM comunque al 27esimo ne parliamo tranquillamente perché tanto qui non succede una cippalippa noi stiamo giocando da da Giasalvi però intanto Berengher i Brachimi Berengher ancora in mezzo per Belotti palla fuori una partita che non è successa ovviamente veramente nulla 4 di rimporta anzi 4 di totali 2 in porta ma 0 quindi andiamo qui vabbè giochiamoci questa carta ma tanto veramente mi importa poco perché tanto siamo salvi e niente la cosa che potrebbe cambiare è il destino del Brescia comunque Teravest per Belotti però la palla viene qui i nostri non corrono Makovsky per Verdi però Teravest Teravest per Zanellato si inculina niente oh ragazzi i colpi di testa così non vanno mai non entrano mai morire Belotti per Teravest Teravest Zanellato per Berenguer oh bel gol in Alex Berenguer il settimo eh bel gol questo qui vediamo Teravest Zanellato cambio gioco Berenguer di destro ben sul secondo palo e Sequeira è battuto Teravest per Belotti ancora Teravest in mezzo palla per spinta Zanellato Makovsky Makovsky largo per Berenguer per Brahim niente ancora palla di spinta azione inutile che Femme ci ha voluto mostrare facciamo seduzione togliamo Makovsky mettiamo Bardelli togliamo Berenguer che mi ha munito e mettiamo Herrera e andiamo così Verdi su punizione palla però ancora spinta da difesa Borrelli Borrelli per Bisoli Bisoli larga mamma mia quanto li entriamo male non copriamo gli spazi neanche morire lasciamo le platerie però bravo Teravest bravo sfigato Teravest bravo ma sfigato per Augustin che però la manda fuori ben ti sta ultima sostituzione mettiamo Montana per Zanellato finisce qui la stagione del Torino vittoria vittoria per 1 a 0 contro Brescia gol di Berenguer comunque abbiamo giocato bene bella vittoria e ora non c'è nient'altro che vedere la classifica finale siamo 14 a 43 punti quindi diciamo 13 punti sopra la zona retrocessione questa è l'ultima partita del save di contro è la prima carriera che concludo da youtuber ovviamente su football manager una stagione che comunque una save che comunque sicuramente avrà visto anche dei miei errori che per essere divertente mi è servito come palestra come palestra e sono contento sono contento sicuramente mi ha insegnato tanto nel come impostare i video nel come anche impostare una carriera certe mosse magari non le farò tenderò magari a non fare più prendere la live che è cassano magari io che sbrocco vediamo un po' si migliora in tutto e spero intanto che questo video e che questo save vi sia piaciuto o che quanto meno vi abbia fatto divertire quindi in questo caso mi raccomando lasciate un piace iscriviti al canale e mi raccomando a breve una nuova carriera qui su football manager appunto in sostituzione del Torino di Antonio Cassano vi mando un abbraccio e vi rimando al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.